Se il tuo obiettivo è quello di dimagrire e rimanere tonico o tonica, sicuramente devi porre il focus sul fatto di non perdere la massa magra. Quindi come fai a fare questo? Non devi concentrarti solo sul numerino, sulla bilancia, solo su perdere peso, altrimenti ti basterebbe fare la fame, praticamente andare a correre, bruciare un sacco di energie e perderesti peso. Questo senz'altro, però il peso che perderesti sarebbe sicuramente in parte dato dalla massa grassa, ma anche in gran parte data da liquidi, glicogeno muscolare e soprattutto anche massa muscolare. Quindi un percorso deve essere fatto a 360 gradi in modo tale da garantirti sia una tonicità muscolare con allenamenti di forza, sia una sessione magari cardiovascolare che non deve per forza essere alto impatto, può essere anche solo un movimento nell'arco della giornata, in modo tale da essere completamente attivi, avere uno stile di vita positivo e accompagnare tutto ciò da un piano alimentare che ti permetta di non fare la fame, non rinunciare ai tuoi gusti, ma tenerli sempre in alto, diciamo, nella piramide delle tue priorità, semplicemente bilanciando con tutto il resto della tua giornata. Quindi se vuoi informazioni sui nostri percorsi di coaching, scrivimi qui sotto.